L'assessore all'istruzione, Simona Ghedini, del Comune di Vimercate, Comune 5 Stelle, ha introdotto una bella novità per l'anno scolastico 2019-2020. È stato attivato in tutte le scuole primarie cittadine il post-scuola, un servizio comunale prezioso a supporto della conciliazione famiglia-lavoro, di cui si offriranno per adesso 40 famiglie. Quello che lo scorso anno era un sostegno possibile esclusivamente grazie alla collaborazione con il privato sociale, da quest'anno sarà presente, finalmente, anche in forma pubblica. Il post-scuola comunale è attivo dalle 16.30 alle 18, con un'uscita intermedia alle 17.15. I bambini sono affidati ad esperti animatori e per agevolare ulteriormente le famiglie il contributo economico può essere versato in due comode rate. Grazie a tutti.